Cari amici, un altro brevissimo aggiornamento sulla questione Evergrande, vedete dalla macchina. Dunque, sembra che domani Evergrande riesca a pagare le cedole, a restituire i soldi che deve restituire alle banche, e quindi sembra che la situazione è un pochino più tranquilla e questo spiega perché i mercati azionari oggi hanno recuperato e volgono al bello. Ciò non di meno tutte le problematiche di fondo rimangono, quindi la situazione è sempre molto molto delicata. E così, una curiosità, perché non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di apprendere, di capire, una curiosità che vi giro, non so se lo sapevate, io onestamente l'ho appreso poco fa. Dovete sapere che naturalmente questa questione non è solo e puramente economica, per quanto molto importante sia la parte economica e finanziaria, ma si inquadra in un discorso di geopolitica molto più ampio, per così dire. E quindi non è solo questione di soldi, di qualcuno che perderà i soldi, di qualcuno o molti che rimarranno probabilmente col cerino in mano, ma è proprio una questione di geopolitica. E vengo a sapere, per esempio, che nel Montenegro società cinesi, la Cina, diciamo, perché poi queste società in Cina sono spesso e volentieri pubbliche e non private, o magari miste, ma comunque con una grande presenza, un grande ruolo del pubblico. Ebbene, in Montenegro una società cinese ha vinto un contratto, stipulato un contratto per la costruzione di un'autostrada, un'opera molto onerosa finanziariamente, questo è già avvenuto in passato, e sembra che il Montenegro poi non abbia in realtà questi soldi per pagare questa grossa infrastruttura che è stata realizzata all'interno del suo territorio. E questo sarebbe un grosso problema perché il contratto prevedeva espressamente il fatto che se i Montenegro non avessero pagato questa società cinese, un pezzo del territorio del Montenegro sarebbe diventato automaticamente di proprietà della Cina. Non chiedetemi esattamente se si parla di quale parte del Montenegro perché non so rispondervi, poi avvierò delle ricerche, cercherò anche di muovere i miei contatti per vedere, di capirne di più di questa faccenda. Però, certo, avere nel Montenegro, avere nel continente europeo un pezzo di territorio, a tutti gli effetti, un enclave cinese, cinese al 100%, sarebbe una cosa certo non bella, non tanto positiva e che allarma giustamente tutti gli stati europei. Quindi c'è anche questo aspetto. Volevo dirvi per il momento soltanto questo, poi naturalmente seguiranno aggiornamenti o altri video su altre tematiche. Per il momento vi ringrazio e vi invito, come di consueto, ad iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima videopillolina.